Gravi disagi con rischio anche di malori all'interno del carcere sul Monese a segnalare la condizione che a causa del caldo a fosso si fa sempre più complicata dietro le sbarre per polizia penitenziaria e per i detenuti e Mauro Nardella, segretario territoriale della Wilpa che fa appello al direttore del carcere, al garante regionale dei detenuti. Nella struttura di piazzale vittime del dovere la situazione riferita a caldo opprimente spesso rasenta la drammaticità più assoluta, tuona Nardella, per parlare poi della situazione delle docce a distanza di vent'anni dal Varo del nuovo regolamento penitenziario. Ci ritroviamo ancora a dover denunciare e a chiedere l'implementazione di docce in ciascuna camera detentiva, precisa Nardella. Una nota a riguardo è stare inviata al direttore del carcere Peligno, al garante regionale delle persone detenute o private della libertà personale in Abruzzo, ciascuno secondo le rispettive competenze, di farsi promotori di iniziative volte a rendere vivibili le condizioni all'interno delle sezioni detentive, compreso il box agenti del reparto infermeria, in tutti quei posti non ancora raggiunti da una politica, che pur riconosciamo l'attuale direzione, di riequilibrio climatico attraverso la messa a punto di condizionatori, fa sapere sindacalista che propone, visto l'avvento ormai prossimo del nuovo padiglione, di cogliere l'occasione per risotturare gli altri reparti chiudendoli e conformandoli alle normative in tema di sicurezza e salubrità, assicurando la giusta dignità nei confronti di chi in carcere ci sta non solo perché deve scontare una pena, ma anche e soprattutto per guadagnarsi il pane.